Intervento nel pomeriggio di venerdì 28 giugno dell'elicottero dei Vigili del Fuoco Drago 115 e dei Vigili del Fuoco Volontari di Lanzo per il recupero di un cavallo maschio di 23 anni scappato dalla stalla e caduto in un dirupo a Cantoira. Le operazioni sono state complicate a causa della zona impervia e della fitta vegetazione. Le squadre di terra hanno provveduto a disbuscare parzialmente la zona di lavoro. Tramite un gancio baricentrico si è poi provveduto a trasportare il cavallo in zona di sicurezza.